Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi spiegherò tutti i trucchi di GTA sul telefono. Ragazzi, allora, se siete nuovi vi ricordo di iscrivervi al canale, nel caso volete altri tutorial li trovate. E beh, ragazzi, incominciamo subito perché non voglio farvi perdere altro tempo. Allora, ci sono un sacco di trucchi. Quindi, io vi spiegherò quelli là un po' più fondamentali, che vi possono servire di più. Se volete i proiettili infiammabili nella vostra arma, dovete digitare questo numero. È un po' lungo, eh? 1, 9, 9, 9. 4, 6, 2. 3, 6, 3. 4, 2, 7, 9. Chiamate e trucco in elaborazione. Ok, ora, ragazzi. Ora, in teoria, abbiamo i proiettili infiammabili. Vedete? Ha preso fuoco. Ok, ragazzi, eccoci qua all'ospedale. Passiamo subito a un nuovo trucco. Essendo che la polizia ci ha e non volete avere problemi. Ora, passiamo al prossimo numero. L'invincibilità, ragazzi. Digitate sempre la sigla 1, 9, 9, 9. E poi, 7, 2, 4, 6, 5, 4, 5, 5, 3, 7. Chiamate, trucco in elaborazione. E ora, ragazzi, avrete 5 minuti di invincibilità. Quindi, potete menare qualcuno. Non vi farà niente. Ora vi faccio vedere. Andate. Buongiorno, signori. Ok. Vedete? Non ci ha fatto niente. Cioè. Allora, ragazzi, passiamo subito a un altro trucco. Volete un veicolo? Va bene, un veicolo. Facciamo che volete un buzzard. Il buzzard. Dai. Mettete 1, 9, 9, 9. 2, 8, 9. 9, 6, 3, 3. Chiamate. Trucchi in elaborazione. Ora, qua vicino, spawnerà un buzzard. Però, qua mi dice che è impossibile generare il veicolo. Qui, ma andate magari qua in mezzo, in un luogo un po' più spazioso, e ve lo genererà. Passiamo subito a un altro trucco. La limusine. Volete una limusine? Digitate 1, 9, 9, 9. 8, 4, 6. 3, 9. 6, 6, 3. Trucchi in elaborazione, ragazzi. Eccola qua. Avete una limusine. Tutta vostra. Easy, easy. Bella, bella. Ok, ragazzi. Passiamo al prossimo trucco. Allora, volete magari, che ne so, volete... Volete che se tirate un pugno, le cose che toccate esplodono. Va bene, va bene. Allora... 1, 9, 9, 9. 4, 6, 8, 4. 2, 6, 3, 7. Trucchi in elaborazione. E ragazzi, ora... Meniamo qualcuno. Qualcuno che farà la vittima. Questo signore. Che... Ricorda molto l'outfit di CJ. Però... Ok. Ok. A posto. Ora abbiamo fatto un po' di bordello. Ok, ragazzi. Volete volare per scappare dalla polizia? Volete diventare Superman? Fate 1, 9, 9, 9. Poi... 7, 5, 9. 3, 2... 5, 5. E ora ragazzi, sarete immuni dalla polizia. State volando. Però, se non avete il paracadute, farete una brutta fine. Vabbè, dai. Godiamoci Superman. Attenzione. Oh, devo scrivere i palazzi. Ce l'ho fatta. Dove andremo contro? Attenzione. A posto. Siamo invincibili, quindi non ci siamo fatti niente. Però, bene. Ah, e se volete un paracadute senza andarlo a comprare... Beh. 1, 9, 9, 9. 1, 7, 5, 9. 3, 4, 8, 3. Ok ragazzi, ora avrete un paracadute. Ottieni paracadute. A posto. Vabbè ragazzi, ora volete la gravità lunare. Volete andare sulla luna magicamente su GTA. Va bene, va bene. 1, 9, 9, 9. 3, 5, 6. 2, 8, 3, 7. A posto ragazzi. Ora avrete la gravità lunare. Facciamoci investire da una macchina. Ok, avete visto che... ci mette tantissimo a cadere. Ok, facciamo qualcosa magari. Facciamoci investire. Che ora? Guardate. Ok ragazzi, ora dovremmo cadere dalla macchina. Vedete come cade lentamente e non si fa niente. Quindi abbiamo attivato. Eh, però noi vogliamo anche lo slow motion. Ok ragazzi. Lo slow motion è 1, 9, 9, 9. 7, 5, 6. 9, 6, 6. Ok ragazzi, abbiamo lo slow motion di livello 1. Ora, come vedete, si muove lentamente il gioco. Anche se meniamo sto tipo. Che lo faremo esplodere. Guardate, con la gravità lunare e lo slow motion quanto cade lentamente. Cioè, ragazzi. È veramente una figata. Ragazzi, se volete una comet. Una macchina per fuggire dalla polizia. Beh. 1, 9, 9, 9. 2, 6, 6. 3, 8. Ok, a posto ragazzi. Ora vi comparirà una comet. E potrete fuggire dalla polizia. Ora sì che si fugge dalla polizia, ragazzi. Ragazzi, se avrete incontrato qualche problema su questi trucchi e robe. Ditemelo. Scrivete in un commento. Che vi dirò come risolvere. In più, in descrizione trovate il sito con tutti i trucchi di GTA. E lì avrete tutta la lista. Vi ringrazio della visione. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale, ragazzi. Che così cresciamo. Guardate i miei prossimi video. E beh. Ragazzi. Ci becchiamo. Alla prossima. Ciao. 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 Grazie per la visione!